Come potrebbe cambiare Trieste con il nuovo piano regolatore? In primis l'attenzione va alle aree di trasformazione, attualmente zone dismesse, come quella di Via Rossetti, ex caserma ed ex fiera, Campo Marzio e l'ex caserma di Banne. Gli investimenti dovranno essere di privati, ma il comune si esprimerà chiaramente sia sulla destinazione d'uso, sia su ciò che l'amministrazione si aspetta in cambio per l'interesse collettivo della città, da chi andrà a costruire. Quindi nella caserma Rossetti un grande spazio verde, percorsi che colleghino la parte alta alla parte bassa, i due edifici per le strutture scolastiche ed ampliamento del polo scolastico, per la fiera anche lì l'allargamento del percorso su Via Rossetti, la presenza di percorsi e connessioni alberate all'interno, sempre per poi collegare la caserma Rossetti attraverso la fiera a Piazzale De Gasperi. Campo Marzio, l'ampliamento del polo museale e la presenza di spazi pubblici. Nell'ex caserma di Banne invece il comune si aspetta la possibilità di sviluppo di attività artigianali e di ricerca. Marchigiani risponde anche alle critiche di Forza Italia sullo stop all'edificabilità in centinaia di piccoli appezzamenti in periferia con una visione di priorità legata al centro storico. Il centro si sta, come dire, degradando anche perché ci sono sempre più immobili dismessi. Allora è chiaro che se noi continuiamo ad espandere la città fuori nessuno verrà a recuperare il centro. Poi il via libera all'installazione dei servizi igienici a Barcola e il progetto, che potrebbe partire a breve, di allargamento degli spazi a mare della riviera tramite l'installazione di pontili. Quindi di allargare lo spazio per la balneazione con pontili permette di mantenere l'accesso diretto a mare così com'è attualmente, quindi di non comportare privatizzazione eccetera. Il piano ora è allo stesso punto della variante 118 approvata da Di Piazza, adottato ma non approvato. La Giunta pensa di chiudere il percorso tra osservazioni, opposizioni e pareri degli altri enti entro un anno. L'opposizione parla di tempi più lunghi e di possibili stop. Staremo a vedere. Grazie. Grazie.